ciao ragazzi bentrovati allora questo non è un video di gaming ve lo preannuncio subito qua parliamo del fatto che youtuber che si attaccano tra di loro no grazie allora questo è il mio il mio parere ragazzi allora io sono uno youtuber faccio i video sul mio canale e faccio video su captain subasa su clash royale su minecraft su fortnite e porto documentario ogni tanto video di calcio insomma video vari va bene quale sarebbe il senso secondo voi che il sottoscritto vadi ad attaccare denigrare un altro youtuber che porta facciamo un esempio captain subasa non c'è senso ragazzi ve lo assicuro chi fa così resta nella sua mediocrità e meschinità e non crescerà mai ragazzi perché youtube è una bellissima piattaforma dove i contenuti i contenuti vengono visualizzati con attenzione dal dallo spettatore di oggi perché parliamoci chiaro nel 2018 chi si mette a guardare i nostri video come altri video è uno spettatore sempre più consapevole di quello che sta guardando quindi ragazzi il senso me lo dovete spiegare voi qual è questo viene perché è avvenuto un fatto increscioso ieri del quale non sto neanche qui a parlarvene perché gente così meschina così povera nei contenuti che non merita neanche un cenno però ragazzi appunto appunto io vi dico la mia poi voglio sapere nei commenti cosa ne pensate voi ragazzi allora la cosa è questa la cosa è questa qua è molto semplice youtube perché si attaccano di loro io come canale cataldo pugliese diciamo rispondiamo no grazie a noi perché io faccio i miei video porto i miei contenuti non vado a guardare quelli degli altri è ovvio ma non vado a denigrare altri canali per scalare le classifiche di iscritti assolutamente no perché anche perché ragazzi per usare una metafora calcistica questo è un vero e proprio autogol ve lo assicuro ragazzi ognuno deve seguire la propria via la propria rotta fare i propri video e andare avanti per la sua strada e questo è quello che penso io ragazzi nei commenti voglio che voi mi rispondiate e mi diciate la vostra è ovvio che per me esistono due tipi di youtuber ormai ragazzi quello che si fa il naif che si pavoneggia addirittura ragazzi questo è un'altra nota dolente io mi chiedo facendo video su youtube ma io come qualsiasi altro youtuber qual è il senso di pavoneggiarsi e di sentirsi onnipotenti non vi è un senso ragazzi a fare un video dietro il computer e pavoneggiarsi bisogna restare nell'umiltà e veniamo al secondo tipo di youtuber che è la ristretta cerchia dove nella quale credo di pormi io personalmente e cioè quella delle persone che comunque restano umili ed è importante ragazzi io sono sicuro che il messaggio che facciamo passare noi i nostri atteggiamenti e il nostro modo di essere vengono recepiti benissimo dai followers dagli iscritti come dai non iscritti perché ragazzi perché ragazzi e muoversi in un territorio così bello come quello del web e dovrebbe essere un qualcosa di costruttivo se io voglio fare un commento su un altro canale devo e voglio anche per carità fare una critica devo essere costruttivo nella mia critica altrimenti è inutile è inutile star lì poi ragazzi parliamoci chiaro la gente si accorge negli atteggiamenti chi qual è il tipo di youtube che abbiamo di fronte youtuber che andiamo di abbiamo di fronte se una persona che si dà solo delle aree e prova a denigrare tutti gli altri attraverso parecchi stratagemmi facendo commenti con account falsi ragazzi ve lo assicura catalto pugliese e questo lo potete chiedere a qualsiasi youtuber non farà mai strada nel 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 mondo del web ma soprattutto nella vita perché ragazzi dietro una tastiera siamo tutti bravi l'importante è vedere com'è una persona nella vita reale ragazzi io dietro la tastiera posso andare io catalto pugliese non lo farei mai riferito a a chi lo fa insomma posso andare ad attaccare ad oltranza una persona ma poi nella vita reale me ne fuggo che senso c'ha è questo ragazzi bisogna fare la propria strada io ho lasciato questo monito diciamo questa è una sorta di video come possiamo definirlo è un video molto piccante perché sono stati levati sono stati degli argomenti abbastanza delicati e secondo me anche poco trattati nel mondo di youtube ragazzi io mi attendo attendo con ansia che commentiate questo video come fate di solito ma dicendomi la la vostra cioè secondo voi vale la strategia di attaccare all'ultranza spero proprio di no oppure che ognuno faccia la propria strada faccia la propria strada e provi anche a creare qualcosa di costruttivo nell'interazione con gli altri youtuber questa è la domanda ragazzi spero tantissimo che la risposta non sia così difficile da dare ragazzi abbiamo sollevato pericchi temi e questioni sono ansioso di vedere le vostre reazioni di sapere cosa ne pensate bene ragazzi per questo video è tutto io vi saluto e vi ricordo vi lascio ai prossimi video sul nostro canale ciao ragazzi